Nika Italian Beauty Excellence è orgogliosa di presentare un servizio straordinario che aumenta la durata dei trattamenti Fairy Silk, Therapy e Discipline e ristruttura in profondità il capello per un effetto levigato e anticrespo più a lungo. Il primo passo è il lavaggio. Lavare i capelli con Monster Lock Shampoo, risciacquarli e tamponarli con un asciugamano, senza asciugarli completamente ed istricarli con il pettine Big Comfort. Il secondo passo è l'applicazione. Dividere la capigliatura in quattro sezioni. Applicare Nanser Mask con un pennello, partendo dalla nuca a una distanza di 6 mm dalle radici. Massaggiare con molta cura su tutta la capigliatura e distribuire Nanser Mask con il pettine Big Comfort. Lasciare in posa dai 10 ai 15 minuti sotto una fonte di calore. Risciacquare e procedere con l'asciugatura finale realizzando la piega desiderata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.